Ripeto, particolarmente significativo anche e soprattutto in considerazione del fatto che i nostri impianti sportivi e non solo negli impianti sportivi, i amici del Unitalsi con particolare trasporto. Fabio, che partita sarà? Speriamo sia, anzi, tengo che sarà una partita divertente. Come hai detto prima, Ronaldo sta rigiocando nuovamente, avrà voglia di far vedere di essere tornato il grande Ronaldo che tutti conoscono. Eccolo, puntualmente in quadrato, dalle nostre telecamere guidate. Due anni della Federcalcio, abbiamo visione delle grandi stelle questa sera. Continuiamo nella tradizione del calcio, anche se lei è un innovatore, ha parlato oggi del doppio arbitro, ha un'idea che potrebbe essere attuale? Boh, è un'idea che possiamo sviluppare se non possiamo utilizzare. Ha parlato solo l'inno nazionale italiano, altrimenti chissà quanti inni nazionali, avremmo dovuto suonare in considerazione del fatto che la formazione del resto del mondo annovera brasiliani, spagnoli, portoghesi, nigeriani, sudafricani, giapponesi e via discorrendo. La bandiera della FIFA con l'invito per il fair play. Presidente Platter della FIFA che vanno a salutare gli atleti del resto del mondo. Ed è sorridente Ronaldo, ricosta intanto a lui l'abbraccio tra Platter e Ronaldo. E ce l'auguriamo tutti. Ce l'auguriamo naturalmente tutti. Bocca al lupo a Dino Zoff che qualcuno ha detto abbia preso troppo seriamente questa partita. Poi caglia contro questa formazione del resto del mondo che ha in panchina quali tecnici il brasiliano Carlos Alberto Parreira e otto alla guida dell'Arabia. Ha anche allenato il Ghana, il Fluminense, il Metro Stars di New York. Josef Wenglos invece, 62 anni, un anziano, è stato per parecchi anni commissario tecnico della formazione dell'allora cecoslovacchia e ha vinto con la cecoslovacchia il titolo europeo nel 1976, il titolo europeo che si disputò in Jugoslavia e che sarebbe dovuto essere di grande festa. Si continua a giocare, ma il lutto è nel cuore di tutti. Luka era sulla traiettoria da palla. La non pressione dei difensori ha permesso già di cacciare due volte. Aie. Pressione, Ronaldo, il colpo di tacco, un altro colpo di tacco. Vaniati e pertanto c'è il calcio di punizione con questo primo piano dedicato a Ronaldo. Ecco, vedete, un colpo di tacco, un altro colpo di tacco. Un po' troppo. Che abbia una calamita al piede. La facilità di girarsi, di ponere il pallone. Dicevo di Dunga che quando è andato via dall'esperienza italiana dicevano che era già vecchio e qualificazione, ma in campionato sono cinque partite che non segna. Inzaghi. Poi Ronaldo, gioco grande, poi in profondità per Zidane, va ottimamente a fermarlo. Nesta, accompagnato con un'ovazione il suo gesto, sulla ribattuta UEA, la finta di Battistuta. Tura feria, attenzione a Ronaldo. Va Ronaldo, sbroglia Ierro. La palla per Zidane, attenzione, contrapiede, lancio profondo, posizione regolare per Ronaldo. Tiro miracolo da parte di Peruzzi e poi fallo di Maldini. E se gli lasci spazio, cosa vai? Ma, ma, è stata bellissima l'azione, un passaggio profondo di Zidane per Ronaldo. Come ha ricevuto la palla? Ronaldo è scattato, guardate la palla come gli arriva precisa. La difesa italiana è ben piazzata, però la capacità di questo giocatore di servire le punte è unica. Qui sbaglia il palonetto Ronaldo, c'era Battistuta che si arrabbia, giustamente era libero, se l'abbia ti importa con la palla. E qui c'è il palla di Maldini. Anche nell'ultima ora, infatti, adesso sta cominciando a scaldarsi Zucker nella rappresentativa del resto del mondo. Un giocatore che il capello conosce bene. Ronaldo, intanto. Va Ronaldo! Scontro con Panucci. Non c'è irregolarità. Ma giù, fra l'altro, direi che dopo questi primi 20 minuti di gioco, la partita sta mantenendo le promesse. Intanto una grande giocata a favore di Battistuta, con il sinistro. Non c'è scampo. Gol! Comunque. Ventesimo. Quelle che sono le qualità tecniche. Vinter dentro, ancora per Ronaldo. Attenzione, Ronaldo finta, micidiale. Va Ronaldo, pallonetto, in contratempo. Troppo bello, tutto troppo, troppo divertente. Che giocatore, ragazzi. Sì, è stato fortunato Winter a uscire da due dribbling, due contrasti. Però se avete la palla a Ronaldo, guardate il passo dopo. Guarda come lascia fermo Cannavaro, che non è... No, non è l'ultimo arrivato. Guardate, poi qui cerca il palo lungo con l'interno del piede e la palla viene deviata. Maldini non riesce a inviare e arriva come il solito UEA. E in questo momento anche lui è meglio lasciarlo perdere. Guardate il passo doppio, spende Ronaldo. E tornate Ronaldo dei vecchi tempi. Attenzione tutte le squadre. E soprattutto saranno contenti i tifosi interisti. Battistuta in leggero contratempo. Il controllo non perfetto di Maldini. Non si può regalare nemmeno un centimetro. Palla ancora, conquistata da Dunga. Poi di forza Battistuta in combinazione con Ronaldo. Fa filtrare ottimamente per Ronaldo. In controtempo Albertini e va via UEA per Ronaldo. In grana la quarta, Cenesta su di lui. Fuori per Battistuta. Recuperato a piedi. Ronaldo. UEA. Non è potuto uscire l'interista che comunque adesso, appena la prima interruzione, abbandonerà il campo. UEA, poi Rui Costa, ora Zemaria. Ancora UEA. Dentro Ronaldo. Di Zidane a lanciare con tutti i due piedi, destro e sinistro. E sempre... Ed ecco che c'è l'avvicendamento. Ronaldo, giustamente applaudito. Trentunesimo del primo tempo. Esce Ronaldo, entra con la maglia numero 13, il croato Tavor Suker. Ci sono sacrosanze, no? Se adesso si può dire tutto quello che vuoi, soldi, passioni, pressioni. Però lucidi di parte a giocare. Ma io credo che nessun giocatore di Cali... Ma forse si aspettava un passaggio. Guardate qui che show di Ronaldo, che finta. Traversone, il rompe, è il caso di dire, UEA. Il panze. Ma c'è stato anche un mancato aggancio di Maldini. Sì, c'è stato anche un mancato aggancio, ma... Era molto bello questo scatto di... Su un'esta, tra l'altro, mi pare. Sì. Non si parnava bene. Avete visto? Il rompe, UEA e mette a segno. Poi si risveglia, diciamo così, l'Italia. Ah no, c'è ancora... Sì, un altro... Si vede che il... Un altro replay del gol. C'era qualche cameraman interista. Qualcuno... Sì, veramente. Questo è per la gioia.